Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Quest'oggi faremo il troll ad Anna Sto registrando un pelo tardi perché in realtà Sono arrabbiato con Anna, adesso vi spiego il perché In poche parole lei mi ha detto alle 7.17 ci sei più tardi Da tre giorni stiamo rimandando una registrazione per il suo canale Lei mi ha chiesto se ci sono più tardi Io gli ho detto sì, ore, punta di domanda Alle 7.18 sono le 22.45 non mi ha ancora risposto Quindi ora ragazzi andiamo nella sua palude e ci vendichiamo di quello che ha fatto Ho preso i vostri commenti e ho deciso per la prima volta dopo sempre Perché io non l'ho mai fatto, anzi gli ho regalato un ciuchino Infatti noi gli uccidiamo ciuchino in questo episodio Dimmi sto registrando Ah ok scusami No tra, tra, dimmi Niente che mi sentivo solo Ah sei solo, dimmi, di qualcosa per il popolo di youtube che io sto andando a uccidere ciuchino Che sono, come ciuchino povero Ho scoperto che ci sono due ciuchini e sceglierò uno dei due No no, ho fatto la stalla per loro, ho passato un intero episodio a fare quella stalla Tu ammazza uno dei ciuchini e io ammazzo una delle tue gambe Guarda che ti osservo eh So dove abiti Conosco i tuoi genitori Conosco la tua famiglia Ragazzi siamo a casa di Anna Adesso noi supereremo questa fence e andremo a vendicarci Prima cosa le riempiamo tutta l'acqua di sabbia Sabbia rossa così capisce che siamo stati noi Ragazzi non c'è niente di più bello che la sabbia rossa Io amo la sabbia Infatti stranamente ho scelto un bioma in cui c'è solo sabbia Chissà perché E infatti noi cerchiamo di lasciarli un bel ricordino di noi Ragazzi vi ricordo inoltre che questo è l'ultimo video troll Che si sarà ad Anna per un bel po' di tempo Perché Anna è stata soggetta ai nostri scherzi Prank e varie cose Per troppi episodi Quindi noi adesso cambieremo membro della Tabicraft Dovete dirmi voi sotto nei commenti Oltre a far arrivare questo video a più di 1500 like Dovete dirmi sotto nei commenti Quale altro membro trollare Datevi da fare mi raccomando che è cosa buona e giusta E ditemi chi trolla tra Redbox Tra Tearless Oh mio dio Tearless Dobbiamo provare qualcosa con Tearless Oppure Locchi Leo già ne abbiamo fatto uno E pian piano ingraniamo contro di lui Ma piano piano Allora Leo mi ha detto di non toccare i ciuchini Io ho deciso che invece uno dei due ciuchini morirà Infatti lui Cioè Infatti Anna ha due ciuchini Ragazzi Uno di quelli andrà all'altro mondo Oggi Oggi ho deciso così Guarda che bello riempire di sabbia tutto Mamma mia che benessere Sabbia ovunque Gli abbiamo riempito di sabbia ovunque Per una cosa che dobbiamo fare assolutamente Riempirli il centro Dove c'è la sua casa C'è una piccola palude Acquatica E noi gli riempiamo di sabbia anche qui ragazzi Mamma mia che bello Che benessere ragazzi Ovviamente non riempiamo tutto tutto Tutissimo Perché ovviamente è un po' uno sbatti Anche per lei togliere dopo tutto Ma dettagli Mi ricorda tanto Uno dei primi scherzi Quando gli ho fatto La piramide di sabbia Chi se lo ricorda ragazzi La piramide di sabbia Mamma mia Quello sì che è stato bello Una bella piramide di sabbia Piena di leve Che belli ricordi Adesso Non esiste più quella casetta Anzi è diventata una casona enorme Mamma mia Veramente Brava Anna a costruire Complimenti Pensavo che era Non così brava a costruire Invece Si è dimostrata una brava master builder Oh sabbia anche qua Oh questo stagno diventa subito sabbia Si 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 Non ce l'ho fatta neanche oggi Perché sono andato ad andare a prendere I miei genitori che sono tornati da Da Roma Oh povera Anna Che non ce l'ho fatta neanche oggi Ti troverai una bella sorpresa domani Alle tre sul canale Divertiti Mi ha chiesto scusami davvero Scusami davvero Non è abbastanza Anna Mi hai rinviato tre giorni di seguito Di fare un video Per il tuo canale Cioè io mi sono dato disponibile per te Per tre sere praticamente Potevo fare altro E invece io mi vendicherò così Con tanta sabbia Eh si La sabbia Ciucchini morti Poi forse faccio anche il nianget bianco e nero Devo vedere se c'è appunto la lana bianca e nera Ma non lo so se lo faccio Adesso ci penso Comunque anche questa sabbia è riempito Qua è riempito Qua c'è ancora un bel po' Guarda che storia Ok Guarda anche un po' qua Guarda che top Che top La sabbia Guarda che top Allora Voi non lo sapete Ma in realtà questo video Lo sto registrando due volte Io gli ho ammazzato i maiali Dopo che ho ucciso i maiali Per sbaglio mi sono accorto Che non sta registrando Quindi Anna Se non trovi più i maiali Sono qua Mi dispiace Te lo dico così Allora Un'ultima cosa Che dobbiamo fare È andare Nella casetta lassù In quella casetta Troviamo I ciuchini Quello che noi andremo a fare adesso Sarà ammazzare Uno dei due ciuchini Vedete che prendo la spada Grande spada E appunto Termineremo la vita Di uno dei due Sceglieremo Un po' random Però Mi sta più antipatico Quello laggiù Per il semplice motivo Che sta a sinistra E non a destra Io sono a destro E ovviamente è logica questa Ammazziamo Ciuchino Mi dispiace Ciuchino Ti voglio bene Sorry Ciao ciuchino due Tu un giorno Ma non è oggi Questo giorno Quindi ragazzi Abbiamo ammazzato Praticamente tutto L'ultima cosa Che potrei fare Con tutta questa sabbia Sarebbe Metterla sulla cotoletta Volevo Trasformare il Niancat Bianco e nero Però non c'ho voglia Ragazzi Davvero Non c'ho voglia Magari lo faremo Con quelle di lollo Mmm Niancat Bianco e nero Sarebbe Un po' Macabra Come cosa Però vabbè Dai dettagli Anche se lui ha ucciso Tutti i suoi maiali Ce ne sono un sacco Nella sua isola What the fuck Ce ne ha solo Nella sua isola Nella sua palude Eh ragazzi Ogni tanto Non riesco a coniugare Le cose Parole E aggettivi Persone E niente Non esiste L'italiano per me Ho capito Ormai non c'è altro A fare Comunque Riempiamo di sabbia Quest'ultime zone Oh Che bello Li facciamo Un bel Boh Volevo farle un pisello di sabbia Ma mi è venuto in mente solo adesso Troppo tardi È troppo tardi? Vediamo se è troppo tardi Facciamo così Facciamo così Li facciamo un bel Una bella punta Ok Poi Servono le palle Sembra più un vaffanculo Però va bene così Ragazzi Facciamo così Facciamo così Sì 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 Lo facciamo lo stesso Ce la facciamo Sì abbiamo abbastanza sabbia per farlo Ok Poi Altri due di lato Diciamo che è un pisello un po' strano però Oh ragazzi ho scoperto questa nuova proprietà Della terra Se è un sentiero non puoi metterci la sabbia e la ghiaia Ma che top Vabbè Ormai abbiamo fatto il nostro diciamo Pisello fatto male di sabbia Ma dettagli E poi gli lasciamo un puntino qua Così Random Tac Un pisello con due palle enormi Sulla cotoletta Ma dettagli Allora questo dove lo posso lasciare Questi te li lascio qua Grazie a Anna Ragazzi Questo era il video troll ad Anna E' l'ultimo video che faremo contro Anna Voi sceglierete i prossimi bersagli Ai miei piccoli troll molesti Consigliatemi lì sotto Nei commenti Insieme al membro da fare Quindi andate a vedervi le vanille degli altri Guardate cosa hanno costruito E ditemi che cosa modificare delle loro costruzioni Con cose brutte e cattive Vi ringrazio per questo video Scusate se ho la voce un pochino bassa Ma è tardi E ho mal di gola E questo è tipo il quarto video che registro in due ore Infatti sto malissimo Quindi ragazzi Ci vediamo Presto Con un altro video Vi saluto Buon weekend a tutti Anna Divertiti E niente Tutti i social sotto in descrizione Iscriviti al canale Lasciate like a questo video 1500 like Faremo dei nuovi video troll A un membro che voi decidete Sotto Appunto Nei commenti E dati di semente di tutto Ciao a tutti Paa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti